È un confronto franco, diretto, che dona vitalità alla Chiesa, quello tra Papa Francesco e partecipanti al terzo ritiro mondiale dei sacerdoti, promosso dal rinnovamento carismatico cattolico internazionale dalla Catholic Fraternity nella Basilica di San Giovanni Laterano. La Chiesa è donna, ribadisce in spagnolo il Papa, che dopo aver invitato i pastori a lasciarsi trasformare dall'amore di Dio, a non avere doppiezza di cuore, ad essere misericordiosi e non burocrati, a impartire il battesimo ai figli di una madre sola o di un padre risposato, tocca anche i temi spinosi nella Chiesa, come l'ecumenismo. Francesco parla dello scandalo della divisione dei cristiani, delle colpe del passato quando si uccideva nel nome di Dio, della tensione tra Roma, Costantinopoli e Mosca. Esprime disponibilità per una data fissa per la Pasqua, per festeggiare la festa cristiana contemporaneamente agli ortodossi. Rivela poi di aver invitato a Roma il Patriarcha Bartolomeo di Costantinopoli per presentare la sua enciclica ecologica. Il Papa annuncia anche il suo viaggio in Repubblica Centrafricana e Uganda a novembre, al vaglio una tappa in Kenya. Infine, definisce l'Asia come una delle promesse più grandi della Chiesa. Nell'Omeria della Messa, seguita all'incontro, ha parlato della tenerezza di Dio ed ha ricordato i 23 martiri corti uccisi dal 16 antestato islamico, che fino all'ultimo hanno sentito la vicinanza del padre. Grazie.